Magari prendeva un gol e poi andava un po' giù di testa Attenzione a Senedese Fichera Destro-sinistro, la palla dell'Audace Valente prepara il destro Sul fondo, con deviazione, calcio d'angolo Un'altra delle nuove per la squalifica Era Bitonto l'anno scorso, subito pratico Palla di ritorno per Rosso La conclusione arriva Tati Poi Pato Pato Faiconi attenta sul primo palo, chiude Ferrara Rischia Isa Pereira Macchiarella col mancino, testa I riflessi di Di Biase Di Biase, lancio profondo Isa Pereira, colpo di testa Falcone in due tempi Ferrara Pato, palla di ritorno Rosso, splendida azione delle Citizens Parata di Falcone Pato Riberete Matievic Di Biase Ziero Cerca il tiro Deviato Di Biase Abbastanza simile a un corner Siamo a 5 metri dalla lunetta Il tiro Il tercetto Il tiro di Busignani Perde la sfera La VIP Va al tiro Busignani Carturan Compie un miracolo Lo sprint di la roccia Il tiro di la roccia Piega le mani Ancora con Caballero Ancora sotto porta Gimenez Liberata Busignani Va al tiro Busignani Carturan di piede Quanto è bello il futsal Quando presenta queste gare Nel corso della prima cronaca Chi fra gli acquisti Il nome che conosciamo meglio Almeno nel campionato italiano È sicuramente quello di Maite Che si riadatta A questo torneo Mentre Vanelli comincia Sprintando questa gara Fa girare per Simone Doppio rimpallo Steggius Bravissimo Ancora Pucci Calcio d'angolo Nessun time out all'orizzonte Brandolini Verso la porta Tardelli Cercava di prenderla In due tempi Lì da concedere Un calcio in angolo Tocca corto per Belli Che cerca la porta Prima vera conclusione Manieri All'indietro per Belli Che calcia forte Mascia E poi Guidotti Rimpalla Risponde presente Però Marica Mascia Manieri Ortega Belli Prova a girarsi Mascia In due tempi La blocca Con Beita Ripartenza Lazio 3 contro 2 Beita Marchese Dall'altra parte Per Marchese Rientra Manieri Marchese Cerca la porta Sestari Va centralmente Marchese Prova a andar via Verzulli E calcia forte Sestari Con i pugni Poi Pignero Si mette davanti al pallone Beita Prova a calciare Ancora Sestari In appoggio c'è Pignero In area Marchese Che adesso si stacca Pignero Riceve Prova Il destra E una finta Ancora Pignero Sestari Dopo una leggera De Il pallone Beita Lascia la battuta Andrà Jessica Marchese Tiro forte Verso la porta Larga sinistra All'indietro ancora Per Evo Ortega Buti Marea di rigore Mascia Palla che passa Che è anche fortunata Marica Deve uscire Dall'area di rigore Mette fuori Per Evo Ortega Ancora Belli In area C'è Butima Belli Cerca con la punta Il secondo palo Tornendo un tempo di gioco A Mascia Altro intervento prodigioso Della partita relaziale Evo Ortega Tre quarti Buti Marea di rigore Buti Mà Mascia anche con il viso Paradossalmente anche lei Golpevole Di uno dei tre gol Di Pescara Il secondo Con il rinvio Finito Su Buti Mà Qui cerca Marica Mascia Ricevuto da Pignero Cerca il lancio lungo Per Marchese Di testa Sestari Si supera E mette in angolo Marchese Ancora una volta Sbaglia Il suggerimento Per Marchese Il pidio Cerca il mancino Dalla tre quarti Trova ancora Le mani di Marica Ma sbaglia Vortega Attenzione Altre contro Della Lazio Pignero Pignero Tre quarti Dentro Siclari Sestari Ancora A dire di no Valentina Siclari Butta il pallone avanti Marino A contrasto con Guti Alla meglio Federica Marino Sterzata di Marino Ancora Marino Che di lì Può calciare Marino Sabatino Non ci arriva Attenzione a Plevano C'è un tre contro tre Potenziale Plevano è velocissima E prende campo Plevano può calciare Plevano Gran parata Poi Giuliano Non ci arriva Ancora Plevano Giuliano Giuliano Margarito Minumentale Su Giuliano Bergamotta Palla difficile Dove c'è solo Thais Che calcia Margarito La blocca Giuliano cerca Marino Grande aggancio Di Marino Che si gira Dal lato giusto Salta anche Pasquale Marino Strepitosa Marino E un miracolo Clamoroso Di Margarito Con la mano Di richiamo A levare la palla Da sotto L'incrocio Esce Pasquale Che ha spazio Davanti a sé Pasquale Pasquale Oselame Miracolo Si complica la vita All'abruzzese La grande Daion Di prima Per Giuliano Con spazio Ancora per Ion Apre il piattone Margarito Poi Giuliano Giuliano Ancora Margarito Micidiale Margarito 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 Grazie a tutti.